Lo sport come veicolo per l'inclusione sociale, la società della Cileale Calcio in prima linea. La nostra squadra di calcio non si limita a giocare sul campo, ma si impegna anche a fare la differenza nella vita dei ragazzi che affrontano sfide sociali. Così si è espresso Don Arturo Grasso, cappellano della squadra, accompagnando una delegazione della squadra e della società nella struttura della comunità della Madonna della Tenda. Oggi invece la delegazione di squadra, staff e dirigenza si è recata nella struttura dell'Aias in via Lazzaretto e anche qui i calciatori alla presenza dei direttori sanitari hanno portato la loro testimonianza. Sorrisi, domande e tanta curiosità intorno ai ragazzi che scendono in campo la domenica che hanno risposto volentieri mostrando anche in questa occasione spirito di squadra, lasciando le firme e divertendosi con qualche palleggio e tiro in porta. Infine uno scambio di doni con i ragazzi della struttura che hanno fatto omaggio dei loro lavori in ceramica.